Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castillo e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio assolutamente aggiornarvi con tante notizie importantissime per quanto riguarda altcoins che sto seguendo ormai da mesi come ad esempio Bonk, Injective eccetera da come ben vediamo qui su CryptoBubbles la maggior parte delle criptovalute sta registrando percentuali positive soprattutto le altcoins infatti qui vediamo Bonk con un più 44% abbiamo anche Injective con un più 31.6% questa mattina mette un nuovo all time high soprattutto ancora i volumi sono interessanti voglio parlarvi anche di Cardano che seguo ormai da molto vicino che mette un più 17% in questo momento che sto registrando questo deriva da tanti motivi ieri è avvenuto all'FOMC e questo è importante perché abbiamo visto di nuovo una pausa per quanto riguarda il rialzo delle tasse di interesse quindi ragazzi adesso iniziamo davvero subito perché ci sono tante notizie fondamentali da sapere però come al solito ragazzi un mi piace basta un click il gioco è fatto soprattutto più mi piace più le cripto continuano a registrare percentuali assurde ritorniamo in altcoin season questo potrebbe portare fortuna e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale non sono a casa ragazzi anzi sono a casa però in Italia la mia vecchia stanza chi mi segue da anni sa benissimo questo sfondo 4 anni fa quando iniziavo a fare video sulle criptovalute parlavo di Cardano che mi ha fatto dannare negli anni quindi però sono sempre contento di tornare a casa qui la mia famiglia eccetera però lo stesso ragazzi adesso iniziamo ripeto che tante cripto stanno registrando volumi interessanti i volumi sono rientrati di nuovo sulle varie altcoins soprattutto voglio parlarvi di perché vi diciamo vediamo questi rialzi così forti nel caso di Bonk ragazzi ad esempio vediamo che in questo momento regista sul giornaliero un più 44.35% con una market cap di 886 milioni e soprattutto un volume scambiato nelle 24 ore nelle ultime 24 ore di 265 milioni di dollari quindi non stiamo parlando di spiccioli ed è interessante vedere un po' come evolve il tutto nei prossimi giorni soprattutto ancora ragazzi voglio parlarvi del motivo per cui questo è successo perché oggi Bonk diciamo sta performando così bene visto che è crollato recentemente dato la situazione del mercato cripto in generale anche Bitcoin era sceso da 45.000 adesso è sui 43.000 di nuovo però perché in questo momento Bonk realmente sta mettendo queste percentuali è molto semplice perché è avvenuto il listing su Coinbase ragazzi e tante cripto sperano sempre di essere listate su exchange grandi quanto Coinbase eccetera ed è molto positivo per il progetto infatti come vediamo qui Coinbase è stato un catalizzatore di questa impennata l'exchange ha annunciato l'inclusione di Bonk nella sua quotazione un indice lungimirante che segnala il potenziale supporto dell'asset quindi è molto importante ragazzi c'è questo annuncio fatto sulla pagina ufficiale ex di Coinbase Assets e specificano anche di non mandare asset sopra altri network ma di sfruttare solo il network di Solana perché ovviamente ragazzi Bonk è su Solana e per questo abbiamo visto anche questa trazione abbiamo visto questa salita perché Solana sta performando bene da inizio anno è un progetto interessante vabbè è inutile che lo dico sappiamo tutti cosa è Solana e Bonk viene considerata la meme coin su Solana c'è anche questo analista qui che ha fatto questa previsione infatti si è avverata già perché Bonk è vicino all'all time high se prendiamo Bonk qui sulla chart siamo intorno agli 0,0,0,0,0,14 e questo qui è l'all time high quindi siamo molto vicini e sicuramente oggi potrebbe mettere un'altra percentuale interessante per rompere questa resistenza dal punto di vista del prezzo ragazzi vi dico sempre di stare attenti perché sono progetti che possono essere molto rischiosi quindi c'è possibilità di guadagnarci assolutamente c'è possibilità di specularci va benissimo però bisogna sapere cosa si sta facendo perché il token come ha guadagnato il 50% in un giorno potrebbe perdere il 60% tra qualche ora questo potrebbe succedere soprattutto con token come le meme coins sappiamo tutti che succede io sono dentro Bonk da parecchio tempo e l'ho detto sinceramente non mi aspettavo per niente una cosa del genere anzi non vendevo perché ero un po' in perdita e ho detto vabbè lasciamo stare potrebbe riprendersi il token su Solana c'è interesse su Solana ancora a Berlino dove vivo io ci sono vari eventi su Solana spesso quindi ho detto va bene lasciamo stare il token non vendo in perdita eccetera e mi è andata bene però ripeto che spesso è fortuna quindi stati attenti adesso passiamo a Injective perché tra le crypto più che stanno performando bene oltre a Injective abbiamo anche LUNK però parliamo un secondo di Injective perché Injective anche interessante anche in questo caso mette un nuovo all time high questa mattina come vediamo anche su CoinMarketCap vediamo che oggi 14 dicembre ha messo un nuovo all time high un'ora fa intorno ai 31 dollari 77 centesimi quindi questo è molto positivo e è un progetto che sta continuando a salire se vediamo nell'ultimo mese un 97% vediamo l'ultimo anno un 1812% perché questo è successo con ovviamente con ING il token è stato uno dei token con le migliori performance la scorsa settimana poi il prezzo di ING è salito a un nuovo all time high recentemente ma perché questo uno dei catalizzatori negli ultimi giorni è stato il token burn settimanale di Injective quindi c'è un burn settimanale ragazzi e per questo ovviamente si è creato un po' di hype intorno e oltre poi a bruciare ovviamente dollari all'incirca qui 65.000 dollari bruciati nel token ING settimanalmente attenzione quindi è tanto rimuovendoli definitivamente dalla circolazione e togliendo i token dalla circolazione ovviamente ci sono meno token e se la domanda è molto alta il prezzo di conseguenza aumenta facilissimo un altro fattore fondamentale è stato lo staking di oltre un miliardo di dollari del token quindi le persone che sono interessate al progetto hanno messo in staking il token e per questo abbiamo visto questa salita perché c'è interesse io seguo ING da qualche mese stiamo parlando di 3 mesi super giù 4 mesi ne ho parlato anche in video precedenti non mi aspettavo anche in questo caso questa salita così forte però sono contento di aver acquistato il token perché è molto interessante per quanto riguarda altri token ragazzi che sto seguendo che mettono percentuali interessanti c'è il terzo posto Cardano che nell'ultimo 24 ore mette un 18% Cardano è un progetto un po' lento diciamo che è uno dei progetti dove ho iniziato a investire qualche anno fa dal punto di vista del progetto c'è valore poco ma sicuro però dal punto di vista della lentezza è incredibile ragazzi spesso anche Hoskinson ha fatto dichiarazioni che non sono molto non mi sono molto piaciute per quanto riguarda il mondo cripto in generale come personaggio il CEO che è dietro non mi piace molto è un progetto comunque che continua sempre a creare hype continua sempre ad andare avanti e vediamo anche diversi articoli perché ovviamente ci sono tante whales che stanno facendo acquisti su Cardano abbiamo anche visto una ripresa di transazioni sostanziali superando gli 1.5 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore quindi dal punto di vista anche di transazioni non è l'interesse se le persone stanno utilizzando Cardano e per questo vediamo questa risalita io spero che tutto ciò continui anche per le altre criptovalute io come al solito cerco sempre di aggiornarvi su quello che succede vediamo anche in questo caso il LUNC con un più 9% potrebbe esserci un altro burn di USTC e questo potrebbe far salire il prezzo di LUNC anche se dovesse esserci qualcosa di ufficiale ragazzi faccio sempre un video su questo canale per questo è fondamentale iscriversi detto questo per quanto riguarda ieri abbiamo visto diciamo l'FOMC e la Fed non prevede che ci sia recessione negli Stati Uniti in America nel 2024 Powell sembrava positivo dallo speech che ha fatto ieri diciamo non hanno realizzato i tassi di interesse neanche questa volta potrebbero esserci dei tagli e tassi di interesse l'anno prossimo e questo va a beneficiare i risk on assets come mercato azionario mercato cripto eccetera per questo vediamo anche un giro di fondi sulle maggiori criptovalute soprattutto le altcoins con un bitcoin stabile e una dominanza che sta riscendendo e vediamo tante cripto che mettono percentuali super interessanti detto questo altcoins numero 53 e nonostante ciò tante cripto mettono tante percentuali quindi immaginate un altcoins cosa potrebbe succedere per quanto riguarda bitcoin e fear green index addirittura il numero 72 è tornato a confidenza per tanti motivi per quanto riguarda il mercato in generale eccetera quindi molto molto positivo detto questo ragazzi date un'occhiata ai link che sono qui in basso in descrizione cripto.com a big get avete il bonus avete il 5% di sconto sulle fees fino all'8000 di bonus in verità che possono essere usati per fare trading e i soldi poi si possono prelevare i profitti intendo quindi molto interessante tutti i link sono qui in basso in descrizione detto questo ragazzi noi ci vediamo prestissimo con un'altra avventura vi ricordo un mi piace un'iscrizione e così pubblico più video possibili ciao a tutti ragazzi ancora e buona giornata grazie a tutti